Musica Davide qual'è il compito della Miraglia? Beh il compito della Miraglia dovrebbe essere quello di seguire i ciclisti per dare assistenza Iaio vedrà che sicuramente ci aspetta a San Marcello No è lo sparo Musica Sono venito giù Con le gambe corte Ha una tavola però quella seria In senso queste cose qua le fanno apposta Per il cuore Musica 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 Sì eh? Ciao! Allora perché dicevi che erano giunti? E' giunti, becchiato! No, tu hai detto che era la Maria Che casegno Sì ma non ti preoccupare di lui, tu non devi stare in coda a quegli altri Vai su fino a Frecchi e vediamo Qui ciò Tranquillo vizio, ci sia una nuova casa No, tu hai trovato Vieni su con noi Vieni 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 Vai 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 Vieni 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 questo colore qui ci sono passato così il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 non vanno ragazzi spingili spingili vai via non arriviamo più ragazzi vai tu Maria dai qui c'è in tutti noi vai a fermare vai a fermare dalla mocca orla la continua a andare la continua a andare No, no, no. Sì, è vero, è vero. Grazie a tutti. bella guiccio Sugo, Sugo, oggi sei che faiare, Sugo e la coppieta Grazie a tutti! e a ieri voi ti capisco quando la parola ascolta ma com'hai fatto a perderti da l'oppi alla lima? hai 3 km ti ha trovato il diavolo per non farmi sorridere la cambia strada la cosa si è perso Davide tu stamattina hai dato disposizione a Iaio di fare l'ammiraglia, l'ascolta insomma gli hai dato delle responsabilità si però non l'ho mai visto dietro l'ho sempre visto stavanti abbiamo avuto bisogno un paio di volte però non credo abbia capito nulla perchè l'ammiraglia non bisogna che stia dietro tu la chiami, si affianca magari hai bisogno di... invece no lui stava davanti allora che ammiraglia ha fatto? sentiamo i ragazzi che erano in macchina con me beh, ho sbagliato il mestiere si? l'organizzazione come la vedi? scarso, scarso come neanche? di qualcosa di Iaio? non lo parola ah per parlare parla si parla Iaio eh esatto, quello c'hai ragione per me si come assistenza allora, numero uno Iaio è sicuramente uno da avere sempre fatto la scopa si eh quindi bisogna rispettare i cari come te che hanno visto tante cose tanto ti prendi lei ma vedi lì, lì si fa bene il finitore ahahahah non fai vedere che caccia Dio buono chi li ha detto bene lì non la Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.